Dunque, siamo nello spazio e ho bisogno che tu mi dica come pilotare questo razzo. Va bene, ma avrò bisogno di tutta la squadra per questa missione. Maggiore, qui è scatto. Abbiamo un codice banana per le mani. Codice banana? Chi tene un razzo con un maialino verso il sole? Stiamo arrivando! Al Museo delle Scienze, muoversi! Alle vostre postazioni! Via, via, via! Fiamma, breve riepilogo? Tanti numeri impressionanti. Bene, svalanche? Il salvaschermo è molto bello. Peggy, vettori? Sono tanti! Bene, riportiamoli a casa. Capitan Maiale! E Volpe Spaziale in posizione! Scatto, non abbiamo molto tempo. Devi spiegarci come far tornare indietro questa navicella. Va bene, ascolta attentamente. Ora devi premere il pulsante con scritto Invertire la rotta. Sì! Azione ai propulsori in avanti tra... Dieci! Nove! Siete tutti pronti? Pronta! Pronta! Sei! Cinque! Spazzolina, che ci fai qui? Ero del retro a svuotare il bidone spaziale. Uno, sei stata qui tutto il tempo! La luna! Premi il pulsante a forma di cetriolino! Sì! Gli asteroidi! Barney, premi il pulsante che sembra un goblin magico! Sì! Sì! Wow! Laser spaziale! Pium, pium, pium! I laser spaziali esistono! Si avvicinano all'atmosfera! Fase di controllo ora! Razzo nello spazio confermato! Pianeta Terra nello spazio confermato! Eccellente! Prepararsi all'atterraggio! La volpe è atterrata! Ripeto, la volpe è atterrata! Epprima! Ci fa forza! Un'altra missione compiuta, volpe spaziale! Bel lavoro, Capitan Maiale! Bravo, Turbo Scogliattolo! Anche tu, volpe spaziale! E adesso riportiamo il razzo nel museo! Eh? Loo di' A Merda, nidi per l'argomotano! Sì! Grazie a tutti.